Una grande emozione ritrovarci oggi in questa piazza, la piazza simbolo del cuore di Bologna alla sesta edizione sponsorizzata, sostenuta convintamente da parte di Confartigianato della Strabologna. Veniamo da un anno impegnativo, abbiamo avuto anche l'alluvione ma noi con la nostra passionalità, la nostra voglia di fare, la voglia di Bologna di essere città coesa, città unita, città solidale con tutto il sistema associativo e in queste occasioni in particolare da Confartigianato sapremo affrontare le sfide del futuro. Anche quest'anno siamo in centro con Confartigianato alla Strabologna, siamo a portare la nostra formazione, a presentare i nostri servizi, la formazione è al centro della vita delle persone e noi siamo qui a raccontarlo in centro e a farci conoscere i nostri servizi di orientamento per il lavoro, la formazione per l'apprendistato, la formazione per chi vuole riqualificarsi, per chi vuole reinventarsi e niente è una festa per noi, una festa per Formart, per Confartigianato e per Obiettivo Bellezza.